Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art Siamo ancora una volta su Crash Insane Trilogy Siamo per affrontare un livello che si chiama Future Frenzy Quindi Frenessia del futuro Vediamo che cosa ci aspetta ragazzi Siamo vicini alla fine del mondo egizio Ovviamente affronteremo due livelli adesso E poi Engine nel prossimo Parlo ovviamente di episodi Questo è un livello platform normalissimo Ok Grande Sì vabbè va meglio a mettere sulla bomba Mi raccomando Ok Scusi eh Beh stiamo già comunque Lì per riguadagnare una vita Aspetta Perfetto Aspetta oh Che fa Dalle Vai così Oppela Andiamo al prossimo piano Andiamo al prossimo piano va Per essere in mondo egizio è abbastanza futuristico Oh questo è un livello platform normalissimo Oppela 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 di nuovo Ah si può eliminare qualcosa Intanto guadagniamo una vita Aia Eh vabbè Mi ero dimenticato di sta cosa Eh lo sapevo che lo facevo Perché sono un pirla Mannaggia Aspetta Ok vabbè Quelli I frutti pump a fotte sega Ok aspettiamo Perché qua ci sono da fare degli scalini Uno E due Merda Sono un idiota L'errore è mio Due volte sono un idiota Vediamo ci sarà la terza Speriamo di no Tre volte Nuovo record 50 vite Avevamo guadagnato un bel po' Di vite Va bene così Vai 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 adesso là Ciao Bellissimo Fa come i palloncini Li doveva aspettare Comunque Ok Aspettiamo Ok Oh stavolta li abbiamo presi tutti Maledizione Sempre lì Vai a cagare vai Sempre lì Crepiamo Dai Mamma mia Che rischio Scusate Fatemi vedere Quanto è che dura Ok Grande Non c'era bisogno Di fare tutto quel casino Ok Bello Ah ci dà pure i suggerimenti Adesso Su come affrontare Gli imprevisti di percorso Ecco Chiamiamoli così Aspetta Aspetta Oppela Checkpoint Grande Occhio Madonna Ok Raccogliamo Il più frutti Possibile Aspetta eh Eh scusi Aspetta che questo Ho capito come si fa Kabum Eh però non abbiamo presi tutte le casse Forse c'è il livello di morte che va affrontato Vabbè Allora Allora Vediamo un po' La prossima sfida Che ci aspetta Il prossimo livello Incredibile proprio lui Addirittura ci sono due gemme Ultimo livello Di questo stage Tomb Water In onore di Tomb Raider Ovviamente Alla fine del percorso di morte Ti aspetta una gemma speciale Va bene Noi non affronteremo il percorso di morte Ovviamente Ah questa me la ricordo Cazzo 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 Ok Aspetta che qua si riempie Dai è così Attenzione all'acqua Che cazzo è Scusi eh Take L Intervento in scivolata Perfetto Siamo già a livello bonus Possibile? Aspetta 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 Ecco Lo sapevo Sì avevo capito bene o male come fare Però Uscita una cagata Dai è Andiamo Opera Così Ok Ok Grande così Oh È l'ultimo Aspetta 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 Ok Forse era meglio non attivarla quella roba Forse eh Ma non ne sono sicura al 100% Va bene Rifacciamolo Ecco Ma vai a cagare Sono un cretino Dobbiamo stare attenti ragazzi Perché a questi livelli Non vale la pena farli di corsa Ci perdi solo più tempo Oh Perché atterri là? Ok Eh l'ultimo Me lo salto sempre Ok Così dovrebbe andare Perfetto Ciao Eh però non mi dà tutte le casse Fote sega 54 vite Grande così Occhio all'acqua che Si ritira E che vaffanculo Iniziamo a entrarci Acu Acu Povero scarafaggio Aspetta Aspetta Scusi Non è mia intenzione morire al momento Altra vita ragazzi Scusi Scusi Il rumore dello scarico Sembra proprio quello del lavandino Dai Dai Veroce Madonna Stavamo per crepare Allora Questo è il percorso di morte Non lo faccio Manco morto Siamo arrivati Siamo arrivati giusto in tempo Oh il cristallo Oh il cristallo Il livello non bonus Ovviamente Il livello bonus Non contano Ok Ovviamente il cristallo L'abbiamo già preso Vaffanculo Si scaraveda il cacchio Altro checkpoint Ma quando finisce sto livello? Ok Ok si deve essere materializzato qualcosa Probabilmente Eh Lo sapevo Dovevo portarlo prima dall'altra parte Forse Ecco fatto Aspetta Madonna Giusto in tempo Eh Questa non ce la facciamo A prenderla in una sola volta O forse si Grande Quindi non finisce mai sto coso Torniamo indietro Ce la facciamo Mettiamoci qui sopra Ok Ok Eh Questa zona è facile Dai Se riesco a distruggere le nitro Con il settino qua E sono un fottuto maestro Andiamo Andiamo Eh vabbè Oppela Anche questo è fatto Molto bene Molto bene Torniamo al vortice temporale Dai E' zio Forza Eccoci qua Va bene ragazzi Allora Noi ci lasciamo qui Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao